Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi rispondiamo a una delle vostre domande, in particolare alla domanda di Maura Rizzo. Chi è Maura Rizzo? L'avrete sentita già nominare, se ascoltate con costanza Strategia Digitale, perché è una delle nostre finanziatrici. Maura Rizzo ha inviato una domanda molto interessante, un tema molto caldo per chi crea contenuti per conto di altri, per chi crea contenuti destinati ai social media, per chi crea contenuti per blog o altre iniziative di content marketing, il quale deve scegliere, perché da una parte potrebbe specializzarsi su un tema ed essere ultra specialista di quel tema, o dall'altra potrebbe voler preferire di diversificare i campi per i quali prende clienti. Quindi poter potenzialmente avere, soprattutto in fase iniziale, più clienti. Più clienti che però ti possono chiedere di scrivere su vari argomenti, di trattare vari argomenti nelle discussioni che vai a gestire per loro conto online sui social media. Allora come fare? Bene, ora sentiremo la domanda di Maura, ma prima di ascoltare la domanda dalla sua viva voce, vi ricordo che il modo per inviare le vostre domande e vedere la loro risposta, o meglio ascoltare la risposta alle vostre domande, dentro questo podcast è semplicemente andare su telegram.me slash Giulio Gaudiano. Lì potete inviarmi un messaggio audio diretto e questo messaggio finirà dentro il podcast, quindi passerete dall'altra parte della barricata e ascolterete la risposta alla vostra domanda, o almeno io tenterò di fare del mio meglio per dargli una risposta. Ma bando alle ciance, come si dice, è arrivato il momento di ascoltare dalla voce di Maura come essere competente su qualsiasi cosa. Ciao Giulio, sono Maura, come sai sono appassionata di web marketing e social media management. Mi stavo chiedendo, ma una persona che si sta diciamo avviando a fare pratica per diventare social media manager e comincia ad avere sempre più clienti, insomma comincia a gestire sempre più pagine per i suoi clienti, come fa, da dove parte per informarsi quando deve gestire una pagina che tratta un argomento di un settore a lui totalmente nuovo? Da dove comincia? Cioè se io non sono una fioraia e devo gestire la pagina Facebook di una persona che fa il fioraio, non so, non avrò tutte queste idee subito per preparargli due o tre poste alla settimana. La stessa cosa se avrò da gestire la pagina, non so, di un promotore finanziario. Magari non sono nel campo, non lo sono mai stata e per quanto possa essere in gamba ad usare lo strumento e tutti gli strumenti che stanno intorno allo strumento per fare non solo monitoraggio ma anche per preparare i post, quindi grafica e io magari sono anche brava nella comunicazione eccetera, però non è un campo dove sono ferrata. Quindi come posso, da dove parto per informarmi prima di poter fare un preventivo adeguato al cliente? Se non è il mio campo mi ci andrà un po' più di tempo, suppongo, per poterlo servire al meglio. Grazie ancora di tutto il materiale gratuito che ci dai, tutte le informazioni che ci dai dentro i tuoi podcast. Ti seguo sempre con molto piacere. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie a te Maura per la tua fantastica domanda. Allora, come ti premettevo durante l'introduzione, tu hai detto bene, come faccio a organizzarmi per queste cose nell'avvio di un'attività o quando si cominciano ad avere sempre più clienti? Di solito che cosa succede? Che chi inizia a fare il social media manager magari ha studiato scienza della comunicazione, ha una sua abilità nel mondo della comunicazione, è appassionato al mondo dei social media, comincia a gestire la pagina del bed and breakfast di suo cugino, poi la pagina Facebook del salumiere di fiducia. Piano piano si allarga il suo giro e a un certo punto si trova che deve gestire argomenti molto vari e ha bisogno, come dicevi giustamente tu, di documentarsi su questi argomenti. Magari arrivano dei clienti che gli chiedono di parlare, questo va bene per i social media manager ma anche per i blogger, per chi lavora nel mondo del content marketing. Sempre succede a un certo punto che qualcuno ti chieda di scrivere o di interagire su argomenti sui quali tu non sei comfortable, sui quali non sei a tuo agio. Come si fa da una parte a prevenire questa cosa? Anzi ti voglio dare subito il mio consiglio spassionato. Il mio consiglio spassionato è quello di specializzarti, specializzarti su un argomento, specializzarti su una nicchia in modo da trattare, sì magari gestire pagine Facebook o scrivere articoli per vari clienti ma comunque tutti su un'unica nicchia. Su quella nicchia lì tu sarai in grado di uno muoverti molto bene nella fase di progettazione e di preventivo perché capirai al volo quello che serve, quello che ti sta chiedendo il cliente, quanto tempo ti sarà necessario per sviluppare ciò che il cliente ti chiede. Dall'altra parte sarai in grado di portare molto valore perché l'esperienza che ti sei fatta sul campo specifico con magari dei problemi o delle caratteristiche, dei target di riferimento specifiche di quel campo potrai portarlo ai clienti successivi. Quindi diciamo ho fatto la mia gavetta con il cliente A, con il cliente B, con il cliente C, quando arrivo al cliente E ho tutta l'esperienza precedente per offrire del valore al cliente E. Quindi in questo modo sarò in grado di crescere sempre di più, crescere nel valore che posso offrire dal mio cliente e crescere nel posizionamento mio professionale. Quindi crescere sempre di più e anche chiedere sempre più soldi perché se porto più valore sono in grado di chiedere e alzare la mia tariffa, chiedere più soldi per il lavoro che faccio e quindi in qualche modo scalare utilizzando la leva del valore, scalare la mia professionalità e crescere professionalmente nel tempo. Detto questo comunque non voglio eludere la tua domanda anche perché poi so bene come non sia facile posizionarsi su una nicchia precisa perché arriva sempre il nuovo cliente e ti dice Uè Gaudiano, allora noi abbiamo un progetto nuovo, lei ci ha seguito per il progetto vecchio, vorremmo lei anche per il progetto nuovo dove parliamo di papere gonfiabili. Ecco e tu ti do il... ma che scrivo sulle papere gonfiabili? E allora hai bisogno di andarti a informare. Come ti vai a informare? Primo, primo punto, fai un'intervista al cliente, quindi nel dialogo col cliente tenti di raccogliere più informazioni possibili quindi gli chiedi quali sono le vostre fonti di riferimento, gli chiedi per esempio se hanno già degli asset online, delle pagine che gestiscono, dei blog che hanno, gli chiedi quali sono i punti di riferimento nel settore, quindi quali sono gli altri brand, i loro competitor che operano nello stesso settore in modo da raccogliere su una tua pagina di appunti che porterai con te a casa alla fine dell'intervista, raccogliere quelle che sono le parole principali utilizzate in quel campo, quindi i termini tecnici specifici. Mi ricordo una volta, tempo fa, quando gestivo insieme al mio collega Lorenzo Cipriani una agenzia digital specializzata in inbound marketing, una volta ci capitò un cliente che aveva tutta una rete di centri di epilazione o depilazione permanente. Allora si scatenò tutto, cioè ma che ne so io della depilazione o dell'epilazione permanente? Che differenza c'è? Allora nell'intervista al cliente raccogliemo un sacco di informazioni, raccogliemo delle informazioni sul fatto che non esiste per esempio la depilazione definitiva, cioè il fatto che con una tecnica, una tecnologia a te non ti ricrescono più i peli, ma esiste il tentativo di seduta dopo seduta, applicazione dopo applicazione, ridurre il numero dei peli superflui che nascono sulle gambe per esempio delle donne e questo intervento va a cambiare da donna a donna, nel senso dipende dal colore dei peli, dagli ormoni, da un sacco di cose diverse. Quindi ci informammo nella prima intervista al cliente su un sacco di termini corretti, di concetti complessi legati alla nicchia, ma anche di termini sbagliati, cioè gli chiedemmo che cosa vi chiedono le persone quando vi telefonano, quali sono i servizi che vanno a cercare e scoprimmo che le persone per esempio non conoscono la differenza tra epilazione o depilazione, tra permanente e definitiva, quindi scoprimmo che le persone utilizzano in maniera impropria dei termini, ma noi dovendo operare online quei termini interessavano, interessavano anche i termini sbagliati. Quindi primo passo, interview col cliente. Secondo passo, Wikipedia. Io la uso tantissimo per documentarmi e per capire anche, io la uso soprattutto in lingua inglese, poi su cose che riguardano l'Italia più in lingua italiana, ma la uso tantissimo in lingua inglese perché di solito le pagine sono molto più ricche, molto più ricche di fonti, con testi molto più lunghi, più curati e la uso per informarmi, cioè per capire, ok, che cos'è la depilazione, che cos'è la luce pulsata. È un termine tecnico, un termine volgarizzato di marketing per definire un'altra tecnologia? Chi si è inventato questa tecnologia? Da quanto tempo esiste? Esisteva magari prima nel campo industriale e poi è stata portata al C2C? Scusate, al B2C, quindi al Business to Consumer. Cerco di capire cosa ci sta dentro la scatola. Magari mi direte che ho una mentalità hacker, cioè che voglio smontare le cose per capire come funzionano. È vero, a me piace sapere più cose, avere una ridondanza cognitiva, sapere più cose di quelle che poi mi serviranno per l'attività specifica per riuscire a collegare le informazioni tra loro. Quindi, se non è Wikipedia, magari se c'è un sito di riferimento nel settore che faccia le veci di Wikipedia, perché a volte Wikipedia non copre tutti i topic, comunque io mi trovo benissimo con Wikipedia. Quindi, interview al cliente numero 1. Numero 2, Wikipedia. Numero 3, studio semantico. Che cos'è lo studio semantico? Lo studio semantico è uno studio che va lì a studiare i termini utilizzati dalle persone quando fanno ricerche attinenti a uno specifico argomento. Quindi, per esempio, del mondo dell'epilazione o depilazione, ci sarà, potrò cercare persone che cercano centri epilazione permanente, centri depilazione permanente, centri epilazione definitiva, centri luce pulsata, centro estetico luce pulsata, depilazione laser. Quindi, troverò tutta una serie di termini. Dove li trovo questi termini? Li trovo attraverso il database di Google, quindi utilizzando Google Suggest, la funzionalità integrata nella buchetta di ricerca di Google, che quando voi iniziate a scrivere epil, lui conclude la frase dicendo epilazione. Se poi voi fate uno spazio, lui vi propone permanente, definitiva, laser, luce pulsata, vi dà tutta una serie di termini correlati. Posso utilizzare Google Trends, quindi trends.google.com, che mi dà i termini più cercati, quindi i termini che sono trending, che sono, come dire, in quel momento più popolare. Posso utilizzare Uber Suggest. Uber Suggest è un servizio di terze parti che però utilizza le API di Google Suggest per darti delle informazioni. Attraverso questi software, questi servizi, queste tecnologie, raccolgo delle parole, faccio collezione di parole. Un giorno potrò scrivere una mia autobiografia definendomi il collezionista di parole. A me piace tantissimo collezionare le parole, ma soprattutto non le parole. Collezionare le domande. Quali sono le domande che le persone si fanno su quel topic, su quell'argomento, in quel settore, su quella nicchia. Colleziono le domande che si fanno delle persone, quindi abbino molte volte i termini luce pulsata Q, cioè esce fuori, luce pulsata quanto costa, quale fare, luce pulsata E, luce pulsata E pericolosa, luce pulsata E efficace, luce pulsata C, luce pulsata come farla, luce pulsata come scegliere, per esempio. Quindi utilizzo dei termini E, Q per quando, quanto, quale, C per come, per, questi termini, queste parole che attivano in Google Suggest dei risultati ulteriore, e poi, dopo che ho costruito una vera e propria mappa con questi termini, vado a cercare, numero 4, le fonti autorevoli. Quindi abbiamo detto, intervista al cliente, Wikipedia, studio semantico con Uber Suggest, Google Suggest, Google Trends, ricerca di fonti autorevoli, 4. Che cosa sono le fonti autorevoli? Vado a cercare, su Google, per esempio, tutti i siti web, i blog, i forum, che parlano di epilazione permanente. Oppure, vado a cercare, su YouTube, lo stesso termine. Vado a cercare, su iTunes, iTunes Store, nella sezione podcast, se ci sono dei podcast, che parlano di quell'argomento. Vado a cercare, sui social, chi è la persona su Twitter che parla di quell'argomento, di hashtag correlati a quell'argomento. Quindi, settore per settore, area per area, vado a cercarmi, magari potrebbe essere anche Tumblr, o Instagram, o Pinterest, vado a cercare quali sono le fonti più autorevole, chi è che parla di più di quell'argomento. E, dulcis in fundo, numero 6, vado a inserire nel mio feed RSS, scusate, numero 5, vado a inserire nel mio aggregatore di feed RSS, gli RSS delle fonti, naturalmente, di quelle dalle quali posso prendere, per esempio, il feed RSS dell'account Twitter di persone autorevoli su quel tema, o il feed RSS di un forum, o di un blog, o di un canale YouTube autorevole su quel tema, in modo da avere tutte queste fonti, a prescindere dal tipo di media che vado ad aggregare, quindi che sia un testo scritto su un blog, o che sia un'interazione sociale su Twitter, oppure un video su YouTube, mi vado ad aggregare tutto in un unico flusso. Attraverso lo studio di quel flusso, che posso consultare sia dal mio computer, per esempio, come aggregatore RSS, io vi consiglio Feedly, a me manca tantissimo un aggregatore che è stato rimosso dal mercato, che era Google Reader, Google faceva un aggregatore RSS da paura, l'hanno chiuso sto progetto, non so perché, mi manca tantissimo, mi sono buttato su Feedly, Feedly che funziona pure su Apple Watch, quindi lo puoi guardare dall'orologio, lo puoi guardare dallo smartphone, lo puoi guardare dal tablet, lo puoi guardare dal computer, guardalo dove ti pare, ti consente di aggregare attraverso la tecnologia RSS, varie fonti, non sto qui a spiegare nello specifico che cos'è l'RSS, diciamo che per chi non lo conosce è una tecnologia che permette, andatevelo a cercare su Wikipedia, come vi consigliavo prima, comunque è una tecnologia che permette di estrapolare i contenuti dal luogo dove vengono pubblicati, di portarli direttamente dentro un altro posto che è l'aggregatore, che ti consente di leggerli e di averli tutti insieme a prescindere dalla fonte, quindi se ho il blog, il forum, poi un altro blog, poi un canale YouTube, aggrego il loro feed RSS dentro il mio account Feedly e a quel punto avrò tutti i contenuti disponibili, aggregati, inseriti, in ordine cronologico addirittura, per cui posso consultarmi così in ordine di uscita. Con questi punti, quindi l'intervio al cliente, la consultazione di Wikipedia, lo studio semantico, l'aggregazione di fonti autorevoli per ogni canale, blog, video, podcast, forum, social media e l'inserimento delle fonti che lo permettono nel mio aggregatore RSS, nel mio feed. Con questi cinque passaggi io penso, Mauro, di averti dato tutti gli strumenti che possono esistere a tua disposizione nel mondo digitale per farti un'idea di qualsiasi argomento, dalla depilazione all'allevamento dei ratti, dalla floricultura fino alla navigazione oceanica. Qualsiasi argomento va bene, l'importante è passare per questi cinque punti diversi, cinque strategie diverse che ci consentono di diventare competenti su qualsiasi argomento. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, grazie Mauro per la tua domanda, veramente interessante, spero di aver risposto, ti prego di darmi feedback così come lo hai fatto inviandomi un messaggio con la tua domanda attraverso telegram.me slash Giulio Gaudiano fammi sapere anche lì se la risposta alla tua domanda ti è stata d'aiuto per il tuo business. Ragazzi, io voglio ringraziare insieme a Mauro gli altri finanziatori di strategia digitale Roberta, Erika, Mariano, Gianluca, Daniele, tutti questi sono andati su youmediaweb.com slash finanzia e hanno deciso di finanziare questo podcast per portarlo nelle vostre orecchie chi con 3 euro, anzi 3 dollari al mese, chi con 50 dollari al mese, chi con 5 dollari al mese, non importa l'importo. Quello che è importante per noi è sapere che strategia digitale vi è utile, che vi porta del valore e che questo valore volete ridarcelo indietro. Quindi, decidete voi quanto e decidete voi se e quale quando lasciare una recensione sul nostro podcast. Noi lo apprezziamo tantissimo. Come si fa a lasciare una recensione? Come si fa a inviare il vostro finanziamento? Ve l'ho detto, youmediaweb.com slash finanzia come lasciare una recensione? Cliccate sul link nelle note dell'episodio, c'è un video tutorial. Non volete vedere il video tutorial? Meglio così risparmiate tempo perché ci vuole 30 secondi. Andate su iTunes, cercate strategia digitale e proprio lì nella sezione valutazione e recensioni facendoci click potete lasciare le vostre stellette e la vostra recensione. Occhio ragazzi, non si vede subito la recensione ma se avete un po' di pazienza 24 ore dopo iTunes la fa vedere quindi non vi allarmate se non la vedete immediatamente. Ragazzi, non mi rimane altro che ringraziare Sara Veltri coautrice del programma, il nostro fanico Costanza Mineo e Radiospeaker.it che è il curatore del nostro sound design e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano a cura di Giulio Gaudiano. Grazie mille